Come accendere un NAS Synology da remoto con VOL? Come usare WECON LAN, VOL, per accendere a distanza un NAS Synology? Un NAS è un dispositivo che per definizione dovrebbe restare sempre acceso o quasi. È infatti un punto di riferimento per la memorizzazione sicura dei dati, grazie alla configurazione RAIDO che viene generalmente utilizzata, oltre che per molte altre esigenze. Come abbiamo visto nell'articolo Smart Working con i NAS Synology, i fattori chiave, i NAS Synology si rivelano particolarmente utili. In ottica Smart Working perché permettono di abilitare strumenti per la collaborazione, il lavoro in team, la condivisione dei dati e la produttività, consentono di mettere in piedi un server VPN, per collegarsi alla rete locale da remoto in modo sicuro, di attivare strumenti di backup e sincronizzazione. Ma un NAS Synology può trasformarsi anche in un server multimediale, una sorta di media center, uno strumento evoluto per la videosorveglianza e per la gestione di macchine virtuali. Anche con lo scopo di preservare i dischi utilizzati all'interno del NAS, alcuni utenti sono però soliti accendere il NAS solamente al bisogno, quando vi fosse la necessità di utilizzare i dati vi memorizzati. Come fare? Allora, per accendere un NAS Synology su richiesta. Come accendere un NAS Synology usando lo standard EthernetWayConLAN, Vol, nell'articolo accendere un PC a distanza, cosa cambia? Con Windows 10 abbiamo visto come funziona lo standard VolWayConLAN, e come possa essere utilizzato per avviare una macchina. Basata sul sistema operativo Microsoft Vol, tuttavia, può essere sfruttato anche per accendere un dispositivo come un server NAS. Procedere in tal senso, nel caso dei NAS Synology, è molto semplice. 1. Accedere al pannello di amministrazione del NAS Synology quindi. Fare clic sull'icona pannello di controllo quindi cliccare in alto a destra su modalità avanzata, accertarsi comunque di trovarsi. In questa modalità, deve essere visualizzato un maggior numero di icone. 2. Cliccare su centro informazioni nel pannello di controllo, sulla scheda rete quindi annotare il MAC address, vedere anche MAC address, cos'è e a che cosa serve, della scheda di rete utilizzata nel NAS. 3. Dopo aver chiuso la schermata rete, si dovrà cliccare sull'icona hardware e alimentazione. 4. Nella scheda generale si dovrà spuntare la casella abilitare Volsulane. Cliccare su Applica, verrà selezionata e attivata anche. La casella riavvia automaticamente dopo interruzione di corrente. 5. Spegnere il NAS Synology cliccando sull'icona in alto a destra nel pannello di amministrazione quindi scegliere spegnimento. 6. A questo punto, da un dispositivo collegato alla stessa rete locale, via cavo Ethernet o Wi-Fi, basterà inviare il cosiddetto Magic Packet, di default sulla porta UDP9, per accendere il NAS Synology. Per accendere il NAS Synology da un sistema Windows si può adoperare la storica utilità Magic Packet Sender indicando nella prima casella hostname l'indirizzo IP privato del NAS, nel campo sub name ASC255255. 255255 e in corrispondenza di MAC address l'indirizzo MAC del PC da avviare, con i vari utetti separati dal simbolo. Per accendere il NAS da un dispositivo Android consigliamo di installare la comoda app Iconland dopo aver cliccato sull'icona più. In basso a destra, selezionando Inserisci manualmente, si dovrà assegnare un nome al dispositivo da spegnere e quindi specificare, negli appositi campi, indirizzo MAC IP di Broadcast, indirizzo hostname IP Broadcast, di solito 192.168, 1255 o 192.168. 0,255 a seconda della configurazione degli indirizzi di rete, ed eventualmente anche l'IP privato del NAS Synology IP dispositivo. Dalla schermata principale dell'app Iconland si potrà a questo punto selezionare il NAS Synology e cliccare sul pulsante Sveglia. In alto a destra, il dispositivo si accenderà in automatico. Non appena il NAS risulterà avviato, l'icona rossa posta sopra il suo nome diverrà di colore verde, se e solo se nel campo IP dispositivo si fosse specificato l'indirizzo IP privato usato dal NAS. Nella sezione Rete, Interfaccia di Rete, LAN del pannello di controllo del NAS Synology, suggeriamo di controllare che il dispositivo utilizzi un indirizzo IP privato assegnato in modo statico. In questo modo l'indirizzo IP locale del NAS Synology resterà invariato all'interno della rete locale. Usando applicazioni come Magic Packet Sender e Weicon LAN è possibile accendere dispositivi collegati alla rete locale anche a distanza, quindi pure a centinaia di chilometri, previa connessione a un server VPN configurato nella propria rete. L'utilità di pianificazione contenuta nel pannello di controllo del NAS Synology permette anche di programmare l'avvio, dal server NAS, di altri dispositivi collegati in rete inviando sempre un Magic Packet Viable.